Ed eccoci ragazzi, bentornati su Dragon Ball Z Kakarot! Non dicevo questa frase da troppo tempo ragazzi, parliamoci chiaro, ho aspettato che uscisse il nuovo DLC e stiamo parlando di Il Risveglio di un Nuovo Potere Parte 2, con il quale è stata introdotta finalmente la storia dedicata a Golden Freezer e con Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. Quindi da come vedete, nuova trasformazione, nuovo allenamento, aggiunte battaglie orda e tre nuove storie secondarie. Le andremo a fare insieme su PlayStation 5, perché come sapete ho PlayStation 5 in anteprima e di conseguenza andiamo a provare qui il gioco in modo tale da scoprire se effettivamente su questa console nuova è anche più veloce. Io vado ragazzi, questo contenuto è separato, manteniamo i progressi, va tutto benissimo, si procede e vediamo anche quali sono i tempi di caricamento che si presuppone dovrebbero essere anche un po' più veloci. Ragazzi, allora, di questo DLC ci farò vari video, dovete lasciare adesso un mi piace. No c'è? Anche come sembra trash creation, non t'abbiamo rag sé, ma infeczero al innocentare. L Rib�... C'è manc ... ... I filmati ragazzi erano spettacolari Goku ragazzi sappiamo cosa fa, gli do un po' di energia Quindi in pratica ci fa vedere un po' i ricordi di Dragon Ball Z E i ricordi legati a Freezer che è l'antagonista del nuovo DLC E invece che succede? C'è un baller Eh, e ora? È un ricordo suo Diciamo che già siamo partiti con un filmato Non è male, assolutamente È trascorso molto tempo dallo scontro mortale fra Goku e Freezer sul pianeta Namek Va bene, tutto regolare Durante la battaglia, la rabbia di Goku gli aveva permesso di trasformarsi in Super Saiyan Ottenendo il potere necessario per sconfiggere il malvagio tiranno Quello scontro decisivo sarebbe dovuto essere l'ultimo incontro fra i due cerrimi rivali Tuttavia Freezer fu riportato in vita con le sfere del drago della Terra Più determinato che mai a vendicarsi del Saiyan che lo aveva umiliato Così radunò nuovamente il suo esercito Sfruttando nuovamente Ripetuto due volte Le sfere del drago e iniziò ai preparativi per il suo piano In previsione del nuovo scontro si sottopose a un allenamento durissimo Che gli permise di ottenere poteri immensi Pochi istanti, prima che l'esercito di Freezer giungesse sulla Terra Oh oh oh, la mia vendetta sta per compiersi Credo sia giunta l'ora di fare visita a Goku sulla sua amata Terra Noi sappiamo già cos'è successo perché abbiamo visto il film La Resurrezione di F E poi il tutto l'abbiamo rivisto in Dragon Ball Super con delle piccole modifiche I due guerrieri erano ansiosi di oltrepassare i limiti della loro forma da Super Saiyan God Vi ricordo infatti ragazzi che il primo DLC lo abbiamo già visto sul mio canale Vi lascerò in descrizione nelle schede ai vari video Perché lì abbiamo sbloccato il Super Saiyan God Ho ottenuto anche il livello 250 Andate a guardare tutto Devo ammettere che i vostri movimenti sono notevolmente migliorati C'è ancora molto da lavorare Ancora Avanzamento automatico no E così posso procedere io Vi affidate ancora troppo alla vostra testa Questo vale soprattutto per te Vegeta L'ho sempre detto che sei uno che pensa troppo Vegeta Sta zitto Kakarot È normale che tu pensi poco Visto che sei un idiota No è che so Magari l'hai già notato ma sei sempre un passo dietro Goku Sai perché? Sei troppo rigido E questo ti impedisce di sfruttare il tuo pieno potenziale Dovresti rilassarti di più come fa lui Era proprio necessario dirlo Ragazzi Vegeta è un personaggio che ha fatto un'evoluzione in Dragon Ma pure in Super è incredibile Quindi non me lo sminuite D'altro canto Goku tu sei troppo sicuro di te Se perdi la concentrazione ti aspetta solo la sconfitta Diciamo che l'impressione iniziale ragazzi è che ci sia un minimo di contesto Di storia Cosa che nel primo DLC non c'era per nulla Venivi buttato all'improvviso a combattere contro Virus Lavoreremo sui vostri rispettivi difetti Mentre andrete avanti con gli allenamenti Devo concentrarmi Sarò concentrato al massimo Va bene va bene riprendiamo l'allenamento Dato che avete esigenze diverse Penso sia meglio procedere uno alla volta Che ne dite? Anzi per me è meglio così Nessuna obiezione Ho sbloccato una ricompensa Ho avviato finalmente il DLC perché è la parte 2 Però devo comunque essere ancora qua E quindi devo combattere contro Whis Vi dico fin da subito una cosa fondamentale Io non ricordo minimamente un singolo tasto Oltre il Super Saiyan God Quindi vuol dire che facendo questi allenamenti Lui ottiene probabilmente altri poteri Lui non riesce proprio a difendersi Fra? Ma stai subendo Whis fatelo dire Ma tantissimo Cioè sei proprio inerme Ma mamma mia ma che è sto potere? Vabbè mi scaravento un po' via ma Parliamoci chiaro ragazzi Cioè Non l'ho distrutto fino ad ora Via 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 Io purtroppo Il mio problema qual è? Sto utilizzando i tasti Come se giocassi a Xenoverse 2 Quello è il vero problema Kamehameha Divina L'ho beccato? La risposta è sì Solo che sto subendo un po' Oh 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 ma che è? Che sono tutti sti danni? Allora andiamoci Da Sfera Genkidama Definitiva E con questa Diciamo che Whis Ci hai salutati Ci fa molto piacere Però sei ancora in piedi Ti sto colpendo con tutta la mia forza Grado S Ragazzi quanti punti esperienza Molto bene Sono sbalordito dai tuoi risultati Sembri quasi in grado di vedere ciò che si cela oltre il Super Saiyan God Credo che riuscirò a capire il resto da solo Grazie Whis Vabbè ora facciamo la stessa cosa praticamente con Vegeta I due Saiyan riuscirono a ottenere un nuovo potere E faccelo vedere il suo Super Saiyan Blue Ci siete entrambi? Bene Diamoci dentro finché ho ancora tutto in mente E' ora di scoprire se hai davvero ottenuto un potere superiore a quello di un dio Kakarot Non vedo l'ora di scoprire i frutti del vostro allenamento E ora c'è la battaglia? Attenzione filmato? Quindi vediamo la prima volta che si trasformano Bello che lo vediamo qua nel gioco Belli! Belli 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 Che spettacolo Eh Waiyumigaso Più forte di me Bellissimi Questa forma è molto più faticosa da mantenere del Super Saiyan God Probabilmente perché richiede di diventare Super Saiyan Mentre siamo in stato divino Quindi qui si spiega quella frase E il Super Saiyan di un Saiyan Che è Super Saiyan God Quella roba là Però questa potenza è incredibile I vostri sforzi sono stati ripagati Più Ok ritornano normali perché non è necessario continuare oltre A quanto pare non possiamo rimanere così molto a lungo però Quindi non l'abbiamo ancora padroneggiata perfettamente Voi due mi avete davvero sorpreso Non mi aspettavo che avreste raggiunto questo traguardo in così poco tempo Sono io quello sorpreso Non pensavo di poter superare il Super Saiyan God Non sei l'unico ad esserci riuscito Kakarot Preparati a diventare il numero due Effettivamente entrambi siete riusciti a diventare dei Super Saiyan God Super Saiyan Non trovate anche voi che sia un nome troppo complicato? Vediamo Visto che in quella forma avete i capelli blu Potremmo chiamarla Super Saiyan Jin Bru Lo sentite un po' di sottofondo Ovviamente io lo copro con la voce perché ragazzi lo spiego in italiano Uuuuh e possiamo salire dal livello 250 al livello 300 Quindi il level cap si è alzato È molto più facile da ricordare Ora che avete ottenuto questo nuovo potere non resta che testarlo Voglio che mi attacchiate usando tutta la vostra forza Vi aiuterà a prendere di mistichezza con la nuova trasformazione Bene Iniziamo Quindi si vanno ed entrambi a trasformare in Super Saiyan E c'è la battaglia in pratica con Wiz Ora loro due si combattono insieme Buono Bellissima Laura del Super Saiyan Blue Veramente bella 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 Non è il momento di litigare No 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 Ma che litighiamo Lui mi deve aiutare Vegeta eh Va bene va bene Lui si sta gasando Si sta abbaffando Tutto quanto Io ho già la scarica attiva? Sì è come se fosse già attiva Perché in pratica ti deve far provare il personaggio Va bene Proviamo Kamehameha Divina Ah ma lui diventa Super Saiyan God Poi dopo ritorna col Blue Quindi direi di andare col Pugno del Drago Vai Pugno del Drago da Super Saiyan Blue Perché non c'era l'animazione? Scusa ricordo che c'era un'animazione e l'hanno tolta Forse perché era troppo lunga In ogni caso ragazzi Wiz completamente distrutto È durato meno di 20 secondi Grado ottenuto S Ce la siamo cavata alla grande perché il livello è alto Loro due salgono di livelli Entrambi Molto bene Vorrei portarli al 300 La trasformazione in Super Saiyan Blue è diventata quasi naturale per voi Buono Se imparaste a collaborare potreste persino lottare alla pari con Lord Beelze Sul serio A dire la verità preferirei affrontarlo da solo Sarò io a sconfiggere Lord Beelze E lo farò senza il tuo aiuto La vostra rivalità è un vero problema Wiz potresti allenarmi ancora Voglio riuscire a usare il meglio Al meglio il potere del Super Saiyan Blue Con molto piacere Non ti lascerò rubare tutto il tempo di Wiz Voglio allenarmi anch'io Ragazzi Goku si mette sempre davanti a Vegeta Sta cosa guarda Mi scoccia perché Anche Vegeta ha la sua dignità da grandissimo combattente Nel frattempo Sulla terra La tranquilla vita di Gohan era stata interrotta da piccolo Che l'aveva convocato per un duro allenamento Meglio così Gohan Vediamo di rimetterci in careggiata Su Facciamo una pausa Era una vita che non sudavo così tanto Sei peggiorato La pace ti ha reso pigro Mi dispiace E' solo che mia madre mi sta col fiato sul collo Perché stu... Non mi interessa Però non devi trascurare l'allenamento Per nessuna ragione Bravo piccolo Ti voglio così Un po' rigido con Gohan Che negli ultimi anni Secondo me si era proprio lasciato perdere E il cielo si oscura Queste sono le sfere del drago Cos'è stato? Un'aura malvagia si sta avvicinando Non può essere lui No in realtà non erano tanto le sfere del drago Perché Freezer è già stato rianimato Quindi è proprio l'arrivo di Freezer questo L'enorme fonte di energia che Gohan e piccolo Avevano percepito Apparteneva a Freezer e ai suoi uomini Proprio così Freezer era giunto sulla terra Quanto ho atteso questo momento Però credo di essere in anticipo Credo che mi divertirò un po' Mentre aspetto l'arrivo di Goku Ho 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 Che situazione complicata eh Gohan e piccolo non erano gli unici Ad aver percepito l'arrivo di Freezer e del suo esercito Krillin, Tenshinhan e gli altri Allertati dall'improvvisa apparizione Di quell'aura malvagia Raggiunsero in fretta i loro due amici Sono spuntate un sacco di aure diverse Si stanno spostando Dobbiamo raggiungerli Sono troppi Dovremmo dividerci e sistemare un gruppo di nemici alla volta Ricevuto Forma due gruppi separati per Gohan e piccolo Quindi è possibile formare due gruppi Li formerò probabilmente così Proprio come mi viene consigliato Non sarà possibile modificare i gruppi Quindi assicuriamoci Ecco che i livelli dei personaggi Siano abbastanza alti Quindi devono essere un attimino equilibrati Io li ho portati tutti in realtà Ad un buon livello Però nemmeno più di tanto Se devo essere sincero Io mi porterò magari un attimino Goten e Trunks con me Così come mi consigliava anche il gioco Quindi questo è il primo gruppo Il secondo gruppo Che è quello con piccolo In realtà subirà un po' di più Probabilmente Porto con me Android 21 E poi porto con me eventualmente Sì, credo di portare Krillin Ci sono Quindi questi sono i miei due gruppi Sperando che abbia fatto una buona scelta Credo di sì in ogni caso Forza Sono più forti di quanto pensassimo Sì Però ragazzi Non ci dobbiamo far scoraggiare Il nuovo scontro con le forze di Freezer Era iniziato Io qui vi saluto Perché iniziano le battaglie urda Che vedremo nel prossimo episodio Dedicato al secondo DLC Di Dragon Ball Z Kakarot Mi raccomando quindi Lasciate un like Iscrivetevi ora Se non l'avete ancora fatto Il prossimo video arriverà veramente a breve Quindi mi raccomando Altri video su una schermo Alla prossima Ciao